Buongiorno Savina, oggi è il 27 marzo del 2021, riprendiamo con le nostre interviste di Fed Stroke per il canale Fidevirus che abbiamo aperto pensando che fosse solo per un'emergenza temporanea, ma in realtà ci stanno accompagnando da oltre un anno. Oggi il tema della giornata, per cui siamo felicissimi di avere qui con noi Maria Savina Severino, che è una neuroradiologa, è appunto il tema legato alla neuroradiologia, quindi su tutti gli approfondimenti che lei ci potrà dare, sia in generale, perché è un esame fondamentale anche per la diagnosi in generale, dell'ictus perinatale, pediatrico, ma anche di tutto ciò che rientra poi nella disabilità di paralisi cerebrale infantile, ma anche perché appunto Savina è estremamente competente e empatica nel racconto. Quindi solo una precisazione, Savina, rispetto ad oggi ci daremo del tu in modo che ristabili le simmetrie e noi ogni tanto ti interromperemo, nonostante tu appunto presenterai, questa volta abbiamo davvero bisogno delle slide, delle immagini di riferimento, però ti interrompiamo perché per noi queste occasioni sono preziose. Immaginati appunto come se fossi una mamma, però non riesco a farti tutte le domande che ti vorrei fare all'uscita dell'ambulatorio stroke e quindi c'è questa necessità assolutamente di andare ad approfondire con cose che possono essere anche solo aneddotiche o curiosità, che però rimangono in sospeso. La prima domanda è appunto, ti presenti tu da sola, ci dici un po' il tuo percorso. Va bene, grazie mille intanto per questa presentazione, per questa opportunità che per me è molto importante perché parlare e spiegare ai genitori magari prima degli esami talvolta non è sempre possibile per questioni anche di tempo, quindi insomma si cerca di spiegare un pochino ma non si ha mai il tempo di entrare nei dettagli, quindi è una buona opportunità magari per le mamme e i papà di poter vedere un po' in anticipo e capire un po' meglio prima anche degli esami, insomma di che cosa parliamo, ecco anche perché il ruolo del neuroradiologo e del radiologo di solito è in seconda fila e siamo un po' su po'. Vi vediamo al buio però presenti, è una presenza costante. Nel nostro ambito si dice che siamo un po' il medico dei medici, cioè noi ci interfacciamo prevalentemente con i colleghi per aiutarli nel far diagnosi di patologia e nel monitoraggio e nel vedere gli effetti delle terapie e troppo poco in me parliamo con i pazienti, cosa che insomma a me spiace molto e quindi apprezzo moltissimo l'opportunità per farlo anche se in questa modalità telematica, ecco diciamo, ma ormai ci siamo anche abituati in quest'anno duro. Dici un po' di tua storia, quindi laurea in medicina, specializzazione in neuroradiologia? Allora io mi sono laureata in medicina nel 2005 a Padova dove ho studiato e ho fatto anche la specialità, la specialità in realtà è di radiodiagnostica perché non esiste in Italia una specialità, in Europa c'è solo in Portogallo la specialistica proprio di neuroradiologia, ma in Italia e come in altri paesi viene poi completato l'iter di preparazione con dei master a livello internazionale che io ho fatto e nell'occasione di uno di questi master di neuroradiologia pediatrica ho incontrato quello che poi è stato il mio mentore, il mio attuale capo, non è una bella parola, ricordiamolo Andrea Rossi e quindi c'è stata diciamo per me insomma l'opportunità era o all'estero o sicuramente in Italia al Gaslini perché aveva un'eccellenza proprio nell'ambito del neuroimaging che mi ha fatto poi propendere per rimanere nel mio paese e quindi sono venuta a Genova nel gennaio del 2010 quindi ormai undici anni fa e mi occupo prevalentemente di malattie rare in generale quindi metaboliche malformative e vascolari anche quindi sono i miei campi di interesse oltre che clinico ovviamente di ricerca nell'ambito di gruppi di studio perché poi come vedrete il nostro ruolo appunto è intrecciato fortemente a quello di tutti gli altri componenti clinici e di ricerca dei gruppi di studio. Bene scelta assolutamente apprezzabile anche se non comune immagino no quella di scegliere questa specialità e però appunto rispetto alle nostre chiacchierate negli ultimi periodi abbiamo fatto appunto indagini interviste con diversi specialisti e ogni volta riportavo appunto la frustrazione ad esempio a lavorare in alcune aree di specializzazione come esempio nell'epilessia mentre secondo me davvero la neuroradiologia sia per i passaggi che ha fatto nel nel tempo e per il potenziale che poi dà nel risolvere o meno un caso secondo me è davvero è davvero affascinante. Io allora Savina accennerei alle domande che ci sono arrivate dai genitori e poi ti lascerei la parola in questa oretta di chiacchierata che appunto vedremo attraverso le slide. Sicuramente un accenno iniziale appunto a questa evoluzione nella nella storia e nell'innovazione in questo in questo settore per poi passare invece a tutto ciò che è la diagnosi precoce nello stroke perinatale quindi quali sono gli esami davvero determinanti sulla risonanza magnetica che è un esame davvero comune per le nostre famiglie perché imparano a conviverci dal momento della diagnosi e poi nei controlli successivi i punti di domanda rimangono anche il fare l'esame in sedazione oppure no fare la risonanza con e senza mezzi di contrasto tanto interesse sulla risonanza magnetica funzionale perché con la crescita del bambino si cercano anche tante risposte dalla dalla lettura dell'esame per capire se poi si riesce ad intervenire anche dal punto di vista terapeutico. Ogni quanto tempo va ripetuto l'esame quali possono essere le differenze invece con altri esami come la TAC quindi molti di noi nel nel momento emergenziale si trovano invece a fare a fare questo tipo di scelte. Quali possono essere altri esami neuroradiologici importanti? Un caso frequente che è legato al fatto che l'epilessia colpisce circa il 40% dei nostri bambini l'intervento della chirurgia dell'epilessia che tipo di esami invece può portarsi dietro. Un altro argomento molto interessante per noi è dalla lettura della risonanza alla lettura dell'esame che cosa si può capire rispetto al momento in cui è avvenuto l'evento. Anche tu sei una mamma Sabina recentemente quindi sai che cosa si può portare dietro. Quel tipo di domande si porta dietro un evento del genere quindi quanto sia importante poi almeno provare a dare delle risposte a sapere perché è avvenuto se questo non si sa però perlomeno quando è avvenuto. La possibilità appunto di capire dalla lettura della risonanza quali sono le aree compromesse e la prognosi. Noi abbiamo una competenza assolutamente legata alla divulgazione di quello che leggiamo quindi abbiamo in mente non so che a sinistra nel cervello ci sia l'area del linguaggio e quindi ogni volta che leggiamo di un danno in quell'area appunto ci prefiguriamo un futuro che magari nel caso di un ictus perinatale non deve per forza andare verso quella direzione. Un accenno a quali sono le differenze nel tipo di macchinari usati e anche su quello che è poi la restituzione dell'esame al genitore. Perché forse rispetto ad altre specialità nell'ambito della medicina ormai abbiamo imparato a leggere l'esame delle analisi del sangue leggendo un riferimento, un asterisco di riferimento, mentre è davvero un tipo di esame sia il referto che appunto il cd della risonanza che davvero per noi è impenetrabile, quindi non trasparente. E l'ultimo accenno, ma so che ne parlerai anche tu rispetto a quella che è l'esperienza invece lato bambino e lato famiglia in generale nell'effettuare questi tipi di esami, in particolare ai gaslini di cui giornalmente ci ritornano feedback molto positivi per un esame che invece se non svolto secondo questo tipo di procedure potrebbe anche essere molto traumatizzante per il bambino. Può esserlo per l'adulto, ma tanto più per un bambino che ha un percorso di ospedalizzazione e quindi ritorna in questo ambiente. Savina, buona presentazione. Lascio a te la possibilità appunto di condividere lo schermo e poi io ti interromperò ogni tanto magari se mi viene in mente qualche altra domanda. Grazie. Piacere, grazie mille. Allora, sì, volevo farvi, cercherò di mettere assieme tutte queste domande in un discorso un po' fluido quindi magari varie domande affrontate insieme contestualmente alle immagini che vi mostrerò. Allora, questa è una slide solo per farvi capire quanto l'imaging del cervello, quindi la neuroradiologia si sia evoluta nell'arco di un secolo. Vedete in alto, perdonate l'inglese nelle immagini, ma vedete questa immagine, vedete la mia freccetta che indica come nell'inizio del secolo precedente potessimo, iniettando aria all'interno del cervello, riuscire indirettamente talvolta a vedere se qualche cosa all'interno che occupava spazio distorcesse la morfologia dei ventricoli, quindi qualcosa come potete immaginare di estremamente difficile da interpretare che insomma non permetteva di certo diagnosi sopraffine. Pochi anni dopo l'avvento dell'angiografia cerebrale ha sicuramente aiutato ulteriormente per la visualizzazione dei vasi, è abbastanza facile comprendere il perché, ma vi assicuro che è stata usata per tantissimi anni anche proprio per indirettamente fare diagnosi di patologia cerebrale, perché se i vasi si spostavano vuol dire che c'era qualcosa, un tumore, un infarto ischemico. Però come vedete sono delle tecniche che non fanno vedere il cervello veramente. Il cervello siamo riusciti a visualizzarlo all'inizio degli anni 70 tramite l'invenzione dell'attac cerebrale che vedete in questa immagine e che mostra invece rispetto a queste altre due immagini sopra, il cervello lo riusciamo a vedere, vediamo i ventricoli, vediamo queste varie tonalità di grigio che indicano come è fatto il nostro cervello di sostanza bianca e di sostanza grigia. Pochi anni dopo in realtà, quindi sono due tecniche abbastanza sorelle, nate in epoche molto vicine, c'è stata la prima applicazione nel 78 dell'imaging di risonanza magnetica al cervello e vedete che in questo caso invece il dettaglio anatomico, quello che noi riusciamo a vedere è che si è ampliato in maniera incredibile. Vi lasci pensare, basti pensare che chi ha inventato l'imaging di risonanza ha vinto un premio Nobel perché sostanzialmente ha dato alla medicina una svolta enorme e un'accelerazione. Chi è l'inventore? Si chiama Durede. Lui ha inventato più che la risonanza, ha inventato il modo di codificare nello spazio da dove arriva il segnale di risonanza magnetica perché tutti voi magari di spettroscopia di risonanza forse avete sentito parlare, sono tecniche molto usate in chimica, se si mette una provetta di liquido all'interno di una magnete si può fare uno spettro e vedere il contenuto, vedere come reagisce questo liquido alla stimolazione magnetica ma di certo non viene fuori un'immagine, viene uno spettro, quindi un diagramma, una lina su un foglio bianco. Invece riuscire a capire da dove arrivasse il segnale in ogni punto dello spazio, quindi fare un imaging nello spazio di questo segnale di risonanza ha applicato la scoperta di, vengono chiamati dei gradienti di risonanza e quindi è stato qualcosa che ha rivoluzionato, per cui identificare il segnale di risonanza magnetica nel cervello, poi in ogni puntino, vedete qua, senza dover aprire la scatola cranica ha permesso di fare veramente un imaging in vivo eccezionale e questo anche perché qua vedete una sola immagine ma a differenza dell'attacca la risonanza e questo chiunque abbia fatto una risonanza può averne avuto esperienza, non ha una sola modalità di rappresentazione del cervello ma ci sono quelle che si dicono varie sequenze che quindi sono quelle varie di durata di 3-5 minuti, quelle sequenze che sentite con vari suoni diversi, esatto, ognuna ha un suo rumore specifico, una durata specifica e sono un po' come i colori sulla paletta di un pittore che permettono di vedere il cervello e la patologia eventualmente presente sotto vari punti di vista, con varie sfumature e la comparazione di questi diversi contrasti, appunto colorazioni, chiamiamole così, ci permette di avvicinarci, non sempre di far diagnosi in alcuni casi, ma insomma in alcune patologie non si può ancora far diagnosi ovviamente solo con risonanza, ma per tantissime altre e lo stroke è sicuramente uno di questi, abbiamo la certezza di poter sapere cosa sta succedendo al paziente. Poi nell'arco dal 78 a oggi c'è stata un'accelerazione mostruosa, esponenziale di tutto quello e ancora oggi per quello anche il bello della nostra specialità che è molto legata alla fisica, alla tecnologia, all'informatica, per cui ci sono sempre nuove sequenze che emergono, vi ho fatto vedere qui in basso, vedete un'immagine di perfusione senza mezzo di contrasto, si chiama arterial spin labelling, è una sequenza particolare che ormai è in uso da pochissimi anni nei centri soprattutto di terzo livello o chi fa soprattutto pediatrico, perché ci consente di studiare la perfusione cerebrale senza dover iniettare il mezzo di contrasto. E la differenza di colore che cosa indica? La differenza di colore, allora vi faccio vedere, questo a destra è il lato sostanzialmente abbastanza sano, non c'è patologia a parte in questa regione, qui dove vedete il verde è la normalità di come deve essere perfuso il cervello, quindi l'intensità della perfusione, vedete che dall'altro lato scompare questa manifestazione, questo colore verde e c'è un buco nero, purtroppo lì vuol dire che il cervello non viene ben perfuso e compaiono dei puntini rossi che sono manifestazioni di un ritardo del sangue che arriva dentro ai vasi in quella sede, questo ci dice indirettamente che mentre il cervello di destra riceve sangue tutto allo stesso tempo in maniera omogenea e il cervello è ben perfuso, dall'altro lato a sinistra invece abbiamo, le immagini di risonanza si leggono all'opposto, ecco questa è un'altra delle cose per cui io dico sinistra e vi direte ma si sta mostrando la destra, perché si leggono esattamente all'opposto, quindi a sinistra ci sono quest'area di ridotta perfusione con questo sangue che arriva molto in ritardo, esatto, per avere questo tipo di informazione di solito ci sono varie tecniche di perfusione anche qui nella storia che partono dalle scintigrafie, dalla perfusione PET addirittura, però in risonanza almeno che la meno invasiva quantomeno si deve usare ancora il contrasto. Questa nuova tecnica che si sta studiando da anni rimpiazza un pochino, sta cercando di rimpiazzare o meglio quella con il contrasto, non è ancora ritenuta il gold standard, quindi tanti pazienti che sono venuti da noi lo sanno che noi ancora il contrasto lo dobbiamo somministrare, poi vi farò vedere in che occasioni, in che circostanze, però noi studiamo sempre, mettiamo sempre anche questa sequenza perché vogliamo arrivare un giorno idealmente a disparci completamente del contrasto e poter ottenere tutte le informazioni che ci servono da questa nuova tecnologia, quindi insomma vi fa capire che dall'aria iniettata all'interno del cervello e dei ventricoli a questo tipo di informazioni ottenute in totale serenità, immaginatevi cosa vuol dire iniettare aria all'interno della teca cranica, una puntura lombare viene insufflata dell'aria all'interno del canale con quindi possibilità di infezioni, ovviamente sedazioni immaginate, insomma tecniche estremamente invasive, la TAC che comunque per quanto sia tante volte necessaria soprattutto nell'ambito delle urgenze e delle emorragie, quindi degli stroke emorragici, però ovviamente comporta la somministrazione di radiazioni e va limitata il più possibile specie in ambito pediatrico, vedete invece cosa riusciamo ad ottenere con la risonanza al giorno d'oggi, quindi non dico comodamente sdraiati su un lettino guardando un cartone perché comunque non è mai un'esperienza, ora ne parliamo, insomma semplice, insomma vanno preparati i bimbi e le famiglie vanno informate, però sicuramente non parliamo di esami come inizio secolo scorso, invasivi, invasivi, ecco. E proprio per introdurre quello che è l'esperienza e anche l'expertise che ci vuole nell'esecuzione e nell'interpretazione dell'imaging in ambito pediatrico, faccio vedere quello che è un paper, un lavoro, un articolo che è uscito nel 98, quindi ormai qualche decennio fa, su Lancet che è una delle riviste più prestigiose per la medicina in cui viene sottolineato che i bambini non sono piccoli adulti e questo sia nell'ambito dell'esperienza poi che devono avere dell'ospedalizzazione, della malattia, degli esami, dell'indagine che devono fare, ma come vi dicevo anche nella ricerca delle cause, per esempio, dello stroke e quindi di cosa dobbiamo andare a cercare e come dobbiamo farlo nel rispetto proprio anche del fatto che sono organismi che si stanno sviluppando ancora in corso di sviluppo e quindi è fondamentale usare le tecniche meno invasive che abbiamo a disposizione. Quindi la risonanza sicuramente ormai nell'ambito dello stroke è a un ruolo fondamentale. Noi, io parlo ovviamente dell'esperienza dell'istituto Giannina Gaslini, abbiamo tre risonanze. Quella che ad oggi ovviamente cerchiamo di usare sempre, specie nell'ambito dello stroke, è quella a tre Tesla. Il Tesla è un'unità di misura del campo magnetico, quindi le macchine ad oggi negli ospedali più in uso sono un Tesla e mezzo, quindi la metà di tre e tre Tesla. Non raddoppia la qualità tra un Tesla e mezzo e tre Tesla, si aumenta esponenzialmente, quindi è ovvio che i macchinari, diciamo tre Tesla, vedrete poi nell'immagine, vi farò vedere nella slide successiva, veramente ci permettono di vedere molto meglio la patologia cerebrale. La diffusione, Savina, di queste macchine, quella a un Tesla e mezzo si trova in qualsiasi centro, in qualsiasi ospedale pediatrico? Anche in quelli periferici, oserei dire, di paesi da 20.000 abitanti. Insomma, dovunque ci sia ormai un ospedale, anche di primo livello, sempre che non siano le, insomma, quelle delle lungodegenze e degli anziani, ma insomma, c'è un paese caliero funzionante di primo livello, si definiscono già, trovate queste, da uno in Tesla e mezzo, vi faccio vedere l'immagine del nostro Tesla e mezzo, che è l'altra macchina, non cambia molto, tra virgolette, a parte l'ambiente, la forma, vedete, sono sempre dei grossi ciambelloni che sono, non mi piace infatti definire i tubi, perché poi uno si immagina sempre, insomma, devi entrare nel tubo e insomma, è ovvio che le parole che usiamo influenzano anche un po' l'esperienza che poi viviamo, quindi io con i bambini scarso sempre, anche il personale cerca di dire che sono dei grandi magneti, che stanno entrando in una navicella spaziale, che faranno un viaggio, cercare, insomma, cerchiamo di usare questi termini un po' meno claustrofobizzanti, perché poi il problema principale della risonanza è questa, perché l'avere poco spazio, è forse il rumore, no? Se uno si ricorda l'esperienza, avere questo rumore assordante che… Esatto, perché per esempio l'attacca, a differenza di questi macchinari, non ho messo un'immagine, ma è molto più stretta, cioè è molto più piccola, quindi sembra proprio l'occhio di una fotocamera e entrando, uscendo velocemente, essendo poi la durata di pochi secondi, diciamo non crea lo stesso impatto e quindi riusciamo spesso ad avere delle collaborazioni, nell'età, anche in età molto più precoce rispetto alla risonanza. La risonanza è un esame lungo, specie quando si fa per scopi sia di ricerca, ma soprattutto di clinica per cercare di capire cosa ha un paziente, quindi i protocolli un po' estesi, vi farò vedere, possono durare anche 45 minuti, un'ora e quindi è ovvio che rimanere all'interno di nuovo di questa macchinaria a forma un po' di ciambellone, tubo, non è semplice, un bambino, insomma, tutti voi sapete, insomma, voglia di muoversi, di spostarsi, può essere spaventato. Ecco, rispetto all'adulto, lo devo dire, la sensazione di claustrofobia è un percentuale molto minore, cioè i bambini di base hanno più fatica a star fermi, poi c'è la paura della risonanza, sono i bambini che proprio non vogliono assolutamente entrare all'interno, esiste, quindi non è che va sminuito. O da soli, no? Spesso ti dicono il genitore può stare a fianco, ci sono alcuni macchinari in cui il genitore può entrare anche dentro. Assolutamente tutti questi, allora, in realtà in tutti possono entrare sia mentre c'è un esame di risonanza in corso, sempre che non sia il bambino sedato, perché a quel punto non è utile al paziente, ci sono dei gas nell'ambiente, il bimbo non beneficia della presenza del papà, i genitori spesso poi quando vedono addormentarsi il bimbo, i poverini crollano anche emotivamente, perché giustamente è un momento anche difficile per loro, quindi non c'è un'utilità e di solito aspettano fuori, ma per tutti gli esami in collaborazione io direi che ormai nel 99% dei centri pediatrici viene usata questa forma di rispetto nei confronti del bimbo, cioè di avere un accompagnatore che lui può scegliere, mamma o papà o chiunque. Però in alcuni casi, Savina Coragione, se è vero, può entrare anche il genitore dentro la macchina? Allora, abbiamo provato a farlo, soprattutto in alcuni bimbi un pochino più piccolini, magari con l'età limiti, ora vi dirò qual è più o meno l'età in cui si riesce a far collaborare i piccolini, sdraiati sopra, un'immagine, non l'ho ammessa, avrei potuto farlo, lo facciamo però può comportare un pochino di problemi, soprattutto nel 3 Tesla, un pochino di rischio della gestione, perché sono macchinari, sono dei grossi magneti e possono ovviamente avere anche un effetto sul labirinto, a volte quando si entra dentro la risonanza, magari il genitore muove la testa, cerca e si muove dentro, potrebbe insomma non avere la stessa esperienza piacevole, quindi su 3 Tesla facciamo un pochino fatica a farlo, l'abbiamo fatto in casi rari, però il nostro obiettivo principale, più che far sdraiare la mamma sopra il bimbo, che può essere proprio l'estrema razio, è quello di rendere piacevole l'esperienza, qua vedete, questa è proprio l'immagine che abbiamo nella nostra risonanza, è un'immagine analoga, non sono personale del nostro ospedale, ma è proprio quello che abbiamo, cioè il nostro macchinario, con la proiezione di un video di benvenuto, che il bambino può scegliere per esempio la gallina, piuttosto che il pesciolino, l'elefantino, oppure i ragazzi più grandi, ci sono immagini, portano il cd anche da casa, no? Sì, questo è proprio all'ingresso, sono dei set già prestabiliti, in cui per esempio possono esserci però immagini di non so, montagne, mari, isole eccetera, e si accompagnano all'illuminazione che può essere o monocolore o colori differenti, quindi l'ingresso in risonanza può essere diciamo come esperienza scelta, c'è un monitor all'ingresso in cui possono scegliere come entrare, qual è l'accoglienza, poi come vedete quello che dicevi tu è questo, cioè noi abbiamo un monitor, ormai molti centri, non in tutti, ma cercano di pediatrici di mettere questo tipo di device, di possibilità, cioè di avere una televisione che deve essere compatibile con la risonanza, come vi dicevo anche il discorso proprio che un grande magnete non deve essere attratta, non deve disturbare le immagini e il bimbo quando mette il caschetto ha uno specchio che riesce a far vedere completamente tutto il monitor che vedete alle spalle, si può portare un cd da casa oppure noi ne abbiamo una selezione insomma pronta lì nella saletta prima di entrare proprio e quindi si può vedere il video, ha delle cuffioni che quindi permettono di ascoltare il contenuto e che attutiscono un po' il rumore, dico la verità il 3 Tesla ha un rumore molto più forte del Tesla in mezzo e non viene completamente eliminato come traccia sonora, quindi io lo dico perché una cosa principale che mi preme dire è in generale che io e anche il nostro personale ha la policy di non dire mai bugie ai bimbi perché più a volte si dice ma no, devi fare il contrasto ma non sentirai niente quando facciamo la puntura, sinceramente se tu dici una cosa del genere, dico sempre alle mie infermiere un bambino, è ovvio che poi prende la pinturina che non sarà il dolore più brutto, più forte al mondo, beh non si sente e ti dice no, io di te non mi fido più la volta dopo che ti vedo perché come mi dici non sento niente e anche il genitore gli chiediamo di non dire no, no, non ti fanno nulla perché in realtà purtroppo da noi limitatamente ma in ambito medico noi bambini purtroppo qualcosa di spiacevole a volte siamo costretti a fare, quindi tra punture, esattamente. Anche noi però consigliamo anche nel processo dell'elaborazione poi della diagnosi così consigliamo sempre di essere abbastanza trasparenti, poco nel linguaggio adeguato all'età certamente però senza cercare di edulcorare situazioni perché poi sono situazioni che possono avere un'evoluzione anche diversa rispetto all'aspettativa ma poi che si portano dietro anche altri tipi di prospettive che non sono così negative. Infatti la preparazione per l'esame di risonanza è proprio importante anche perché appunto a volte può prevedere il contrasto quindi dire a un bambino no, no, di sicuro non te lo faranno a volte vi farò vedere, lo si può dire ma in altri casi è meglio non dirglielo perché se poi invece arriva e ti dicono no, ti dobbiamo fare questa cosa, di nuovo c'è la delusione, il pianto inconsolabile, poi ci vuole un po' di tempo da dare al bambino perché si tranquillizzi ovviamente quei ritmi poi frenesi dell'ospedale potrebbe non essere possibile. La seconda cosa appunto che non è un esame breve quindi un genitore non può dire sì sì dura due minuti poi vedrai che te ne esci e vai via perché ovviamente poi quando incomincia il bambino a vedere che passano 5, 10, 15 minuti dice ma qua mi hanno fregato di nuovo e l'esame invece dura di più. La durata media è un'ora? La tecnologia di studio, gli studi molto 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 complessi e molto diciamo che hanno tante di quelle sequenze di cui vi parlavo prima possono arrivare anche a 45-50 minuti con anche sequenze di ricerca un'oretta, ovviamente invece dei controlli più veloci può durare anche 20 minuti quindi insomma è una durata che va… Il massimo è un'ora? Massimo ma proprio perché vuol dire che hai fatto protocolli, nell'ambito dello stroke vuol dire che hai fatto protocolli anche un po' di ricerca e hai fatto delle sequenze in più eccetera. L'altra cosa fondamentale è che appunto a volte il lettino può fare un piccolo tremolio quindi a volte i bambini sentono una sensazione di tremolio sotto la schiena ma anche lì basta spiegare e dirgli che è una cosa del tutto normale e la macchina può scaldare, cioè può durante l'esame riscaldare letteralmente il paziente, ha una sensazione piacevole, non è negativa ma va anche quella spiegata. Il discorso invece del contrasto per i bambini che sono collaboranti va spiegato che potrebbero sentire una sensazione amarognola in bocca perché a volte c'è questo tipo di esperienza e quindi una volta che il bambino è preparato a cosa gli succede quando fa l'esame un pochino si tranquillizza. Quindi come funziona? Con il mezzo di contrasto il bambino deve bere qualcosa? No no, non beve nulla, viene iniettato. Viene iniettato. Sì, quindi è per quello che vi dicevo che se nel caso in cui viene fatto bisogna prendere un accesso venoso e quindi si inserisce una gocanula, anche lì specifichiamo al bimbo che la parte di metallo è solo quella che serve inizialmente, l'aghino, a fare la puntura dopodiché rimane solo una cannulina di plastichina, quindi loro poi rimangono sempre col braccio teso come se avessero dentro ancora l'aghino, ma in realtà possono muoverlo e è soltanto una parte piccola di plastica che permette l'iniezione del mezzo di contrasto. Questa iniezione per lo stroke, nello studio della perfusione, va fatta con un iniettore, cioè una macchina che spinge ad alta velocità, quindi non può essere l'infermiera che entra dentro e lentamente lo inietta, ma deve spingerlo ad alta velocità perché dobbiamo visualizzare bene i vasi e quindi richiede una velocità di iniezione. Sono piccole qualentità, considerate che in media la somministrazione del farmaci che noi usiamo di contrasto, che si chiama, sono farmaci ciclici approvati in età pediatrica, molto sicure, di 0,2 ml pro chilo, quindi insomma immaginate che più di 16 ml non si possono di solito dare, è proprio una piccolissima quantità. Quindi è iniettato e poi il bambino fa normalmente l'esame. Esatto, sì, a metà di solito abbiamo una parte di esame senza mezzo di contrasto e poi una parte con il mezzo di contrasto. Il contrasto poi viene smaltito naturalmente dal bambino. Sì, con la pipì, quindi diciamo ci sono solo pochissime occasioni in cui non è possibile somministrare il mezzo di contrasto, ma nell'anamnesi che in questo caso viene fatta di solito da un medico proprio per la somministrazione e la richiesta del consenso, vengono spiegati ai genitori tutti i pro e contro, quindi le segnalazioni che sono state ad oggi fatte, che sono molto poche sostanzialmente, ma insomma ci sono alcune preoccupazioni sul deposito del gadolino all'interno dell'organismo che è stato riscontrato ormai da una decina d'anni, ma che ad oggi non ha dimostrato manifestarsi con nessuna malattia. Quindi si sa che qualche molecolina di questo mezzo di contrasto, che per il 99,9% viene eliminato con la pipì, può rimanere all'interno dei tessuti, ma che questo a distanza di ormai, avete visto dal 78 che usiamo la risonanza magnetica, ad oggi non ha dato manifestazione di sé. Ed è un po' come quando mangiamo il tonno e ci ritroviamo che qualche matallo pesante rimane nell'organismo, però mentre sappiamo che il mercurio è sicuramente tossico e dannoso all'organismo, il gadolino, che è il mezzo di contrasto della risonanza, quando anche se rimanesse in qualche minima quantità, non ha dato manifestazioni e l'uso ormai è più di 30 anni, 30-40 anni da quando abbiamo la risonanza, quindi insomma io spiego al genitore tutte le cose vanno fatte con un rapporto rischio-beneficio, è ovvio che se possiamo lo evitiamo, il mezzo di contrasto lo vedrete anche dopo, ma nel caso in cui sia necessario farlo, si devono ponderare questi piccoli, ovviamente il rischio allergico, che è una cosa, questo discorso della deposizione, poi i bambini che hanno insufficienza renale ovviamente il contrasto se lo devono fare, lo devono fare solo prima della dialisi, in modo che poi venga eliminato dalla dialisi, ma al di là di queste, tra virgolette, spiegazioni ed accortezze, non ci sono altre limitazioni e un pochino io cerco di far capire ai genitori che è ovvio che tutto è un piccolo rischio, adesso lo sentiamo anche con i vaccini, ma sempre bisogna ricordarci il beneficio e il perché stiamo facendo qualcosa e nel momento in cui è come dire, non prendo la macchina perché se faccio, non so, l'A4 potrei fare un incidente, certo, però se devi spostarti con attenzione, con cura, la prendi lo stesso, la macchina. E la stessa cosa è qui, è ovvio quando si parla della salute dei propri figli, i dubbi si moltiplicano, però io credo che nel consenso informato, e su questo io spendo molto tempo con i genitori, bisogna cercare di far capire perché usiamo questo mezzo di contrasto, poi vedrete poi nelle immagini, e cosa comporta eventualmente, come viene smaltito, questo discorso molto ormai ben esplorato in questi ultimi anni di questo accumulo di poche particelle di questo gadolino che rimangono nell'organismo come il mercurio del tonno, ecco. Un'altra domanda su questo, perché spesso appunto sedare o non sedare il bambino rispetto all'età del bambino, e quanto è importante appunto rispetto al risultato delle analisi che il bambino sia fermo, voi state facendo delle fotografie, perché spesso capita che magari si vada da un ospedale all'altro e ti dicono, no ma questo non si vede bene, questa risonanza, bisogna rifarlo, quindi approfondire questo tema dell'essere fermi. L'essere fermi è importante, allora vi dico quali sono le finestre temporali per riuscire a avere un esame senza sedazione, una finestra eccezionale all'epoca neonatale, fino alle prime, io oserei dire, 6-7 settimane di vita a età corretta del termine, quindi se un bambino è nato prematuro considerate la correzione dalle 40 settimane, aggiungiamo 6 settimane buone si riesce facendo quello che viene chiamato in inglese il feed and wrap, cioè si dà una popata di lattone, bere un bel po' di lattone e poi diciamo ci si aspetta che c'è la fase naturale del sonno, sfruttare questo sonno, mettere dei device anche lì, del tappi, della cera apposta per le orecchie, delle cuffioni, abbiamo un altro grasso cuscino che viene messo intorno a questo tubo proprio per attutire ancora di più, in questo caso di solito i genitori non servono perché il neonato dorme, quindi monitoriamo il neonato con degli ECG e c'è il neonatologo sempre presente e sostanzialmente mentre dorme riesce a farsi un esame che a volte può durare anche mezz'ora, 40 minuti, ovviamente può anche risvegliarsi, non è che tutti i neonati riescono a farlo, però all'epoca neonatale devo dire le prime 6 settimane di vita si riesce a fare dei buoni studi. Alcuni centri provano anche dopo, ho visto delle risonanze in tentativo di collaborazione a due mesi, due mesi e mezzo, ecco lì noi siamo un po' come gaslini un po' più reticenti perché sinceramente la qualità di questi studi e chiunque abbia visto un bambino, insomma due o tre mesi non è il sonno che hai nelle prime settimane, è proprio diverso, incominciano ad avere un sonno più disturbato, devono apprendere a dormire proprio intorno ai due o tre mesi e non è più un riflesso così naturale, quindi le immagini non vengono bene, poi bisogna ripeterle tante volte con la sedazione. Quindi tolta la prima finestra, nelle prime 6-7 settimane di vita, si passa, ahimè, qua voglio essere molto generosa, 4-5 anni. Attenzione però, parlo ovviamente della situazione ideale in cui il bimbo non abbia delle difficoltà, perché, e ovviamente sia molto collaborante, perché allora siamo riusciti a fare a volte, vi dico una risonanza, mi ricordo, bambina di 3 anni e mezzo in collaborazione, ma è stato, ne posso contare due in 11 anni. Mi senti? Adesso sì, vai, vai. Dicevo, quindi 3 anni e mezzo, ho solo due bimbe in 10 anni che mi ricordo sono riuscite a farle, altrimenti, devo dire la verità, si deve attendere un po' l'età scolare, 5-6 anni. Ovviamente noi dobbiamo pensare, e questo è un mantra, che come tutte le persone sono uniche, anche tutti i bambini sono unici, e quindi nelle loro peculiarità non si può dire, ah, siccome 5 anni, 6 anni, devi collaborare, perché o per ovviamente carattere e personalità, o per a volte limitazioni dettate anche dalla patologia, non si può pretendere che anche a 10-11 anni, se un bambino magari ha un problema cognitivo, che non gli permette di elaborare l'esperienza con tutti gli strumenti che potrebbe avere, di pretendere di farlo stare dentro lì, diventa quasi, io dico, una tortura, a volte quando tentiamo di farlo, vedi delle reazioni che dopo un po' diciamo che no, basta. Un tentativo magari noi lo facciamo anche, siamo ok, magari il bambino… Ti sentiamo con il volume più basso, non so se hai toccato il microfono. No, teoricamente no, mi sentite? Adesso sì, siamo tornati a sentire, vai. Dicevo che a volte anche quando hanno 10-11 anni, se hanno delle problematiche particolari, e noi magari vista l'età proviamo, leggiamo ovviamente la cartella clinica, ci rendiamo conto a priori se è una cosa da proporre, nei casi limiti proviamo e diciamo volete fare un tentativo, magari il bambino è già stato, diciamo la risonanza è stata già prenotata in sedazione e quindi arriva pronto eventualmente per fare comunque la sua sedazione, ma un tentativo lo cerchiamo di fare. Però non insistiamo troppo e questo vorrei dire alle mamme, a volte una sedazione per quanto può sembrare cruenta, perché si vede addormentare proprio bimbo, quindi insomma non è piacere. Come funziona la sedazione, Savina? Che tipo di sedazione è? Come se fosse un'anestesia? Sì, più lieve, io ovviamente non sono un anestesista, quindi vi posso solo raccontare le cose in maniera più generica, non è un'anestesia generale, è una sedazione e può essere fatta in due modalità a seconda del centro. Noi utilizziamo prevalentemente la mascherina ai gas, quindi purtroppo sono gas puzzolenti, ve lo dico, sembra un odore di fogna, però al bambino si dice prova a gonfiare il palloncino, fa la puzza, butta via la puzza, scaccia la puzza, scaccia la puzza. E dorme subito, si addormenta subito. Però dopo cerchiamo, allora appena si è addormentato, di mettere l'ago lì, se sono bambini che fanno la sedazione non cerchiamo di metterglielo prima, è rarissimo che cerchiamo di metterlo prima, cerchiamo di sfruttare proprio l'inizio di questa fase di addormentamento per cercare l'accesso a venoso. Altrimenti si può fare tutto per via endovenosa, però appunto anche lì sono tecniche scelte diverse a seconda dei centri, noi preferiamo, i nostri anestesisti preferiscono quella diciamo dei gas, che ha dei pro dei contro, ovviamente un contro può essere che a volte i bambini si svegliano un po' agitati, molto agitati, ma in realtà loro poi non se ne ricordano, è un'esperienza quasi più negativa per il genitore che si trova un piccolo esorcista, risveglia, dice ma cosa gli hanno fatto al bambino? In realtà è un po' quel farmaco che fa sembrare, insomma da queste manifestazioni che sembra veramente il bambino molto agitato, risveglio, ma poi passa. Quindi al di là di questo... Quanto dura la sedazione? Cioè in tempo per l'esame al massimo un'ora o? Il tempo per l'esame quindi al massimo un'ora e poi diciamo dopo un po' di ore, dopo pochissimo possono iniziare a bere e a mangiare, basta che l'anestesista veda che siano in grado di essere belli svegli perché il rischio di dare subito davvero da mangiare è che vadano i polmoni perché non c'è il controllo completo ovviamente della deglutizione e nel momento in cui sì sono belli svegli, possono già mangiare, dopo di solito poche ore potrebbero anche andare a casa. Ovviamente noi in realtà ancora stiamo cercando di implementare questa cosa della risonanza in sedazione in giornata perché per il momento per noi prevede ancora un, almeno diciamo un ambulatorio intendevo, prevede almeno un regime di day hospital, cioè ci deve essere un letto in un reparto almeno per una giornata, ecco non è detto la notte ma almeno una giornata. Idealmente si può anche provare a fare un ambulatorio ma bisogna avere degli spazi che stiamo cercando di creare all'interno proprio del servizio di neuroradiologia in cui rimane proprio all'interno come un ambulatorio. È un po' più difficile da organizzare ma insomma volendo in giornata, anzi normalmente in giornata anche i bambini che hanno fatto la sedazione con il day hospital possono comunque poi tornare a casa loro. Una cosa un po' più importante. Vai vai vai. Ecco quindi come fare aumentare eventualmente la collaborazione dei bambini che sono in questa età limite 4, 5, 6 anni? Allora sicuramente questa è l'immagine del nostro mock scanner che è quindi una macchina finta, vedete piccolina che rappresenta, reproduce proprio la risonanza e che in tanti ospedali hanno iniziato a installare e con modalità diverse insomma questa somiglia molto veramente proprio alla risonanza, altre sono fatte in maniera artigianale ma in modo che il bambino volendo prima possa esercitarsi, qui ci sono per esempio delle piccole tavolette a forma di animale che una volta inserite all'interno della macchina fanno attivare un video in cui con un cartone animato viene spiegato che si fanno le foto alla pancia, c'è la gallina che fa vedere che fa le rizzo alla pancia, anche cose che non sono super veritiere ma fatte per i bambini insomma quindi che possano un pochino familiarizzare. Questo è sicuramente uno strumento utile, l'altro strumento utile, in questo abbiamo un progetto in corso e spero quindi di poi potremo renderlo anche disponibile su tutte le piattaforme, è di fare dei video, in italiano non ce ne sono ancora ed è per quello che adesso stiamo cercando come Neuroradiologia Gaslini in partnership anche con delle associazioni di altre malattie proprio di poter fare dei video. Facciamolo, facciamolo anche noi, vi aiutiamo alla traduzione e alla discussione. Esatto perché ci sono per gli ospedali americani, australiani molto belli, molto dettagliati in cui fanno capire proprio cosa succede da quando tu varchi la porta dell'ospedale, fai la risonanza, te ne torni a casa e sono meravigliosi, fanno sentire i rumori, fanno capire cosa succederà. Io sono convinta che quando un bambino ma anche un adulto, io personalmente quando vivo le esperienze mediche, sa cosa va incontro, una quota grossa di ansia si riduce, non dico che si annulla, ma si riduce. Quindi questi video sono molto importanti e stiamo facendo questo progetto proprio per riuscire a diffonderli poi a beneficio proprio di tutti perché anche in altri ospedali bene o male i bambini possono, e i genitori anche, perché devo dire che gli stessi genitori cosa possono spiegare a un bambino se magari loro non hanno mai fatto una risonanza o se non sanno come viene fatto in ambito pediatrico, quindi magari gli dicono sì vai in una stanza come questa della risonanza vecchia, tutta grigia, senza nulla, senti solo i rumori, devi stare... Un rumore martellante. Esatto e quindi... È vero che negli anni si è diffusa un po' anche la consapevolezza, anche negli adulti del tipo di esame, è sempre più un esame abbastanza diffuso, per cui c'è questa possibilità anche del genitore di poter raccontare, quindi qualcosa che non sia così lontano. Sabina, noi siamo andati molto nel dettaglio, siamo alla seconda slide. Io provo a indirizzarti verso due aree fondamentali, perché tutto ciò che hai detto era assolutamente interessante per noi. una parte relativa alla lettura di questi esami, cioè davvero questo tipo di esame ci permette di risalire, anche se effettuato, lo dicevamo prima, anche molto a distanza rispetto al momento in cui è avvenuto l'evento, a appunto adattare l'evento e quale altra informazione ci può essere utile? Quindi un cenno anche alla risonanza magnetica funzionale. Assolutamente. Adesso accelererò un pochino e vi farò dare un pochino di cose un po' più specifiche sulla patologia e di informazioni utili. Ci vorrebbero due incontri, probabilmente possiamo dividere. Possiamo ripeterlo, assolutamente sì. Ok, allora riguardo all'importante concetto che lo stroke neonatale è completamente diverso dallo stroke pediatrico. Quindi noi possiamo cercare di dare una diagnosi e dire quando è avvenuto? Allora, nell'ambito degli stroke neonatali, per chi di voi avrà avuto esperienza saprà direttamente, ci sono delle rare occasioni in cui riusciamo a scoprirlo in acuto, cioè nel momento in cui avviene, perché il neonato in seconda o terza giornata ha delle piccole crisi epilettiche che vengono notate o dal genitore, dall'infermiere o dal medico e all'opportunità vi farò vedere di fare l'esame in acuto e quindi un po' come nelle altre fasi di età si intercetta nel momento in cui avviene la patologia. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi degli stroke neonatali ci si accorge dello stroke intorno ai 6-9 mesi, talvolta se si è molto precoce i 4, ma è molto raro. Quando il bimbo inizia ad avere una lateralizzazione, a usare una mano più di un'altra, quando in realtà questa è una cosa che può avvenire solo dopo il secondo anno di vita, in maniera normale. Quindi si insospettisce la mamma, si insospettisce il pediatra, viene mandato a fare una risonanza e si vede una lesione già cronica. Questa lesione cronica che noi vediamo, a quel punto non possiamo più dire sicuramente, usiamo il termine presumed, si presuppone sia perinatale e perinatale vuol dire anche paradossalmente dalla 28esima settimana gestazionale, potrebbe anche essere successo in utero, raro ma può succedere, oppure più frequentemente nella prima settimana di vita, ma per definizione fino al 28esimo giorno. Quindi vedete, è un lasco in realtà ampio, tante volte le mamme si chiedono ma cosa è successo, è stato un problema in gravidanza, è stato un problema... Esatto, ho preso qualcosa che abbia potuto scatenare. Esatto, purtroppo dall'imaging noi non abbiamo questo tipo di risposta netta, possiamo datare con una regionevole certezza quando è avvenuto, cioè dire ok il problema è che non muove la manina da un lato, non è un problema di oggi ma è qualcosa che risale a questa fascia tra le 28 settimane gestazione e i 28 giorni, perché abbiamo delle caratteristiche molto peculiari che insomma sono mai classiche, canoniche, di un infarto vecchio che può essere o periventricolare o in un territorio arterioso, di solito con i vasi normali e quindi non abbiamo molti dubbi su questo tipo di diagnosi ma purtroppo non sulla causa. Però tu a quel punto avresti visto una risonanza dove c'erano i vasi normali, normalmente irrorati, in questo caso invece vedi che scompare, però vedi un'età diversa? Vedi un'età diversa, cioè tu hai il bambino che ha 6 mesi, 9 mesi o a volte più avanti se viene scoperto anche più tardivamente, in cui invece di avere questa immagine che avete qua, vedete questo è uno stroke neonatale in acuto, dove vedete c'è il tessuto che è rigonfio, la risonanza dei vasi addirittura non fa vedere il più delle volte nel momento addirittura anche in acuto del difetto dei vasi ma fa vedere addirittura a volte una maggiore irrorazione di quella sede probabilmente per le crisi epilettiche, la sequenza in diffusione è quella che ci dice che è acuto, vedete bianco in questa immagine, nero in quest'altra, qui abbiamo preso lo stroke neonatale quando è successo, ma velocissimamente, guardate qua già 25 giorni dopo diventa un buchino, quindi noi… Quella parte o bianca o nera a seconda del… Esatto, questa immagine qui, quindi quello che noi poi rivediamo anche a 6 mesi, eventualmente è una cosa del genere, con un angio risonanza che a quel punto addirittura completamente normale perché non ci sono difetti nei vasi, perché tipicamente nello stroke neonatale non rimangono quelle che si chiamano arteriopatie, difetti nei vasi, ma un'immagine di una chiara distribuzione, si dice territoriale del danno e quindi uno dice ok, è una lesione vascolare, la clinica è tipica e quindi si fa risalire tra le 28 settimane e le 28 giorni di vita. Questo purtroppo, come dicevamo, non si sa ancora quali sono le cause certe dello stroke, è multifattoriale probabilmente, un meccanismo che abbiamo studiato e abbiamo anche recentemente pubblicato è quello dell'embolo, si sa che talvolta purtroppo la placenta può avere una vasculopatia, si chiama fetale, però quindi non del lato della mamma, ma del lato della placenta del bimbo, che fa partire un piccolo coagulo che poi attraverso la circolazione fetale, che è molto diversa da quella che poi cambia dopo, nella prima settimana di vita cambia, ma sostanzialmente fa partire questo embolo che va direttamente al cervello e quindi può dare questo tipo di manifestazione. È un meccanismo che avviene appunto intorno alla nascita, a partire dalla placenta. Problematiche invece di tipo discoagulocativo sono molto più discusse, ancora non si conosce bene e la parte invece genetica ad oggi non c'è, non è conosciuta. però ad esempio queste che tu stai mostrando adesso sono tutte oggetto di indagine, di analisi, quindi vengono riuscite poi al genitore o al bambino, no? La presenza di questi fattori. C'è molta discussione, perché a livello internazionale gli americani ritengono che non sia necessario, perché nel 99,9% periodico non si riscontrano, quindi loro sono un po' contro allo screening delle coagulopatie, però noi in realtà nel nostro centro onestamente non riteniamo che è un esame che per costo e beneficio sia comunque utile farlo. C'è da dire che in fase non natale questi tipi di alterazioni possono essere falsamente positivi, quindi andrebbero comunque ripetuti oltre il sesto mese ed è un motivo per cui gli americani dicono no, non è utile farlo, tanto comunque sono sempre patologici ma lo sono falsamente, quindi insomma va riverificato poi una fase più tardiva se si dovessero riscontrare eventualmente in fase acuta, ma veramente le cause dello stroke natale ad oggi probabilmente è multifattoriale ma sono ancora largamente, ahimè, sconosciute. Una domanda velocissima su questo, proprio per il fatto che si interviene anche in una fase anteriore alla nascita del bambino, quindi durante la gravidanza. Esistono gli strumenti diagnostici oggi che invece sono in mano ad un'altra categoria di medici, quindi ginecologi piuttosto che in fase più avanzata anche neonatologi, che possono aiutare a capire se c'è un evento in corso o intervenire? Allora io ti dico la verità, sì, volendo una neurosonografia e una risonanza magnetica fetale possono mostrare degli strumenti. Però non sono esami di routine, no? No, non si fanno di routine perché è impossibile, parliamo, diciamo, solo in alcuni contesti riusciamo spesso a identificare, che sono le case di gravidanza gemellare con la trasfusione feto-fetale, allora lì sì si sa che c'è un rischio molto alto anche e soprattutto dopo eventualmente una settimana dal trattamento con il laser che viene fatto per eliminare queste connessioni patologiche tra le due placenti e dei due feti, c'è un rischio molto alto di stroke in uno dei due feti. Quindi lì sì uno può andare a cercare attentamente, ma nella maggior parte dei casi purtroppo non si può dire ok andiamo a fare un esame alla 32, vediamo se c'è uno stroke, se sono stata tra quei pochi sfortunati, che però non sono neanche così pochi perché lo stroke neonatale è molto più frequente di quello pediatrico, però siamo sempre su uno su 3.500, quindi non è che tutte le mamme devono mettersi questa angoscia di dire devo andare dal ginecologo, mi faccia sapere se c'è uno stroke. Purtroppo a parte delle selezionate popolazioni molto a rischio, questo tipo di esame non viene fatto e non credo neanche bene. Già è fugato tanti dubbi eh Savina fino ad oggi, quindi speriamo. Ma poi se c'è bisogno di qualcos'altro vi dico. Poi cosa succede invece nel momento in cui ho il neonato in acuto, quelle famose crisette epilettiche lateralizzate strane che sospettiscono il neonatologo, i clinici e i genitori, si può fare anche l'ecografia che ha molti vantaggi perché è un'indagine a letto del paziente, non deve essere portato il neonato a fare una risonanza, quindi comunque con trasporto freddo quant'altro un po' meno indaginoso, ma è operatore dipendente. Qui vedete dell'immagine del mio collega Alessandro Parodi che è riuscito a identificare uno stroke dei nuclei della base, ma vi assicuro che non è la norma. Normalmente l'ecografia ha dei grossi limiti perché è una finestra, vedete, molto limitata ed è molto dipendente dalla bravura di chi lo fa. Qua da noi lo fanno i neonatologi, in altri centri possono anche essere i radiologi, da noi è più in mano il neonatologo proprio perché essendo una metodica fatta a letto del paziente, molte volte sono i neonatologi stessi che si appassionano della metodica, Luca Ramenghi, lo conoscete qui. Fino a che età è possibile utilizzare l'ecografia per leggere? Allora, per lo stroke neonatale di solito non viene poi fatta se non nei primi giorni, perché non ci sarebbe un motivo, ma di base finché non si chiudono le fontanelle. Quindi diciamo, primi mesi, guarda, sì, 4, 5, 6 mesi, poi diventa sempre più piccolo, poi ci sono varie finestre, puoi avere la finestra anteriore, quella retromassiera, quindi diciamo che sono modalità che vengono usate molto nel proprio neonatale, il primo mese di vita, poi si va un po' a scemare, si usano più per verificare magari i volumi dei ventricoli, allora dopo, siccome sono cose grossolane, riesce a vederlo anche dopo 6, 8 mesi, riesce ad andare avanti. Possiamo dire che oggi è un esame abbastanza di routine nelle terapie intenzioni neonatali. Assolutamente, deve essere fatto anche perché non c'è solo lo stroke ischemico, c'è lo stroke emorragico del prematuro, dove invece l'ecografia ha un ruolo incredibile, le classificazioni sullo stroke emorragico del prematuro sono basate in primis sulla ecografia, perché poi mettere un primo termine in una risonanza, se non è l'incubatore per risonanza è estremamente difficile, quindi si deve aspettare le 40 settimane, ma ovviamente il clinico vuole saperlo a 20, 23, 29, 23, 25, 28, 32 settimane ovviamente, quello che sta succedendo nel cervello del bambino. Quindi nell'epoca prenatale assolutamente fondamentale, nell'epoca scusate del prematuro. Nello stroke del nato a termine possono tante volte avere dei sospetti, vedono delle aree pirecogene, però poi l'esame principe è la risonanza, non c'è nulla da fare per lo stroke neonatale, bisogna arrivare a questo. Come vi dicevo, il protocollo è abbastanza semplice, non prevede somministrazione di mezzo di contrasto e si può fare serenamente con quel metodo feed and wrap di cui abbiamo parlato. Ci devono essere delle sequenze che fanno vedere lo stroke, questa immagine bianca dove si può dire che appunto c'è la lesione, devono esserci delle sequenze che fanno vedere che se c'è o non c'è emorragia, uno studio vascolare e possibilmente quella sequenza che vi dicevo fa vedere la perfusione senza iniettare il mezzo di contrasto. suggerisco, ma questo più quando parliamo anche ai congressi, insomma anche ai miei colleghi neuroradiologi, perché non è pratica frequente e diffusa, di studiare anche i vasi del collo, perché seppur rare, molto molto estremamente rare, possono esserci delle alterazioni vascolari anche dei vasi del collo, che forse sono stati un po' così dimenticati nel passato, insomma qualcosa che vi è stato poco studiato. e quindi diciamo questo è molto semplice, questo tipo di esame non dura un'ora, questo veramente se in 20 minuti, se non si fanno sequenze altre di trattografia, di TTI o altre cose che però sono anche lì più per la ricerca, uno studio come questo più di 20 minuti non dura. diverso invece è nel bambino, il bambino ha molte più cause, veramente tantissime cause possono essere qui sì che ci si deve lottare per arrivare solo meno del 10%, poi alla fine non ha la causa. e qui se anche si parla di un grossissimo capitolo che mi preme portare come problematica aperta perché è il trattamento in iperacuto dello stroke. Magari chi di voi ha avuto un parente, ahimè, con una sfortuna da adulto di avere uno stroke avrà sentito parlare della necessità di fare al più presto l'accesso in ospedale per poter trattare in iperacuto e cercare di salvare il più cervello possibile. Time is brain Time is brain, lo vedremo. Purtroppo questo assioma nel bambino non è andato di pari passo con lo sviluppo di tutte le tecnologie diagnostiche, ma c'è una ragione perché purtroppo in età pediatrica ci sono tante patologie che mimano lo stroke, mentre nell'anziano no, perché è molto più raro, perché soprattutto in età pediatrica rispetto al neonatale è molto molto più raro, ha la stessa incidenza più o meno dei tumori cerebrali infantili che per fortuna sono rari, e spesso c'è un ritardo diagnostico perché non si pensa neanche che un bambino possa avere uno stroke, tutti immaginiamo l'anziano ma a volte abbiamo un ritardo non solo nel genitore ma anche nel pediatra che porta a avere addirittura 24-48 ore di a volte ritardi diagnostici, è ovvio che invece le finestre per i trattamenti iperacuti, salvare il cervello si gioca nelle prime sei ore di evento, quindi io invece adesso si sta cercando in tutti i modi di fare sia campagne con i pediatri che con i genitori, il cervello veramente è un organo che più passano i minuti e più ovviamente se ne perdono le funzioni quando non riceve il sangue, quindi bisogna cercare di sensibilizzare, arrivare a fare una diagnosi precoce, ci sono delle bellissime campagne anche di sensibilizzazione per i bambini e soprattutto perché? Perché oggi c'è un rinnovato interesse, questi sono solo alcuni degli ultimi lavori che sono usciti recentemente, sul tentativo di riaprire questi vasi anche nei bambini, ovviamente in che siamo a Savina che fino invece ad alcuni anni fa ma ancora oggi su tanti centri non essendoci tanti studi che avevano appunto dato evidenza di queste pratiche anche nel bambino, spesso non si interveniva anche nel bambino, non si poteva proprio intervenire. Non si poteva ancora oggi, vi dico, non siamo arrivati ad avere delle linee guida, attenzione, ma l'interesse vuol dire che nei centri di terzo livello si sta cercando in tutti i modi di provare a aprire un po' a fare d'apri piste, lo dico onestamente, nel senso che ci sono degli studi in corso ma quelli precedenti sono stati chiusi per mancato arruolamento perché voi sapete che avere un'evidenza scientifica comporta una grossa numerosità ma essendo raro lo stroke pediatrico ed essendo raro che arrivi in tempo non ci sono stati ad oggi numeri necessari per poter dire è sicuro, non è sicuro, funziona, non funziona. Ad oggi tra tutte le possibilità perché non c'è solo per esempio la riapertura endovascolare dei vasi proprio con il catetere ma ci sono anche farmaci, la tombolisi, insomma c'è tutta una pletora di trattamenti, quelli un po' più invasivi ancora sono in fase di esplorazione. È ovvio e ve lo dico anche da mamma che io stessa anche se so che sono in via di esplorazione nel momento in cui tu hai una possibilità in quelle sei ore perché sei stato male fortunato di essertene accorto, il bambino è arrivato in ospedale entro le sei ore, deve avere dei criteri di età, di peso, tutta una serie di cose, non ci devono essere emorragie, tutta una serie di, insomma se rientrano in alcuni criteri io onestamente proverei a dare una chance a quel cervello ecco però è un terreno non voglio dire che si deve fare, che si fa, che è una cosa usuale, che se un centro è in studio. È in studio e lo sforzo deve essere enorme. Per raggiungere questo obiettivo che ancora non abbiamo raggiunto, cosa dobbiamo fare anche noi neuroradiologi nella clinica, nella pratica? Cercare di dare i migliori strumenti per identificare in queste prime ore se veramente abbiamo davanti uno stroke oppure no, perché vi dicevo ci sono dei mimicker, delle falsi altre patologie che si presentano con gli stessi sintomi nel bambino. Quindi dobbiamo fare, a volte si fa un attacco perché purtroppo in emergenza, il più delle volte, immaginatevi contesti di notte, nell'emergenza non c'è disponibile risonanza, non è detto che si possa fare la risonanza in iperacuto, iperacuto vuol dire entro le sei ore, è importante che ci creiamo se no poi c'è confusione e non voglio creare confusione ai genitori, ma in iperacuto l'attacco ancora oggi è l'indagine diciamo più frequentemente usata, però vi faccio vedere qui, può essere, fa vedere, vedete qui c'è questa l'attacco, si vede solo una lieve immagine come vedete qua un po' sfumata, ma quando poi questo paziente il giorno dopo riesce a fare una risonanza vedete quante più alterazioni in realtà c'erano in questo cervello, quindi attacca dei grossi limiti diagnostici e soprattutto mentre qua sembrava essere solo uno stroke, poi si è visto che c'erano delle emorragie, quindi è ovvio che questo strumento se si vuole andare a trattare purtroppo non è sufficiente. Ecco dici come come leggi tu lo stroke nella prima immagine dell'attacco, ecco su questa. Esatto, in iperacuto. Per me è una massa grigia indistinta. Allora ci sono dei segni diretti e indiretti di stroke in iperacuto, quelli indiretti vanno a vedere per esempio non so l'iperdensità di un vaso, cioè il vaso che è troppo bianco rispetto agli altri, qua non è in questa immagine, oppure sono dei segni precoci nel parenchima. Questi vedete che la corteccia è un po' più bianca, vedete questo nastro? Ecco, a un certo punto qua questo nastro diventa grigio più scuro. Ok. E questo grigio scuro scende anche rispetto a questa tonalità a fianco nella sostanza bianca, ma soprattutto è la corteccia, quindi lo stato superficiale del nostro cervello dove ci sono proprio i neuroni, che diventa scuro e rigonfio un po'. E questo vuol dire che qui il cervello non ha ricevuto sangue, le cellule si sono gonfiate e piano piano stanno andando verso quella che è la morte cellulare per apoptosi nel territorio vascolare. E' quella zona che invece si vede bene dalla risonanza. E non solo si vede quella che si vede bene, ma si vede un'area qui che onestamente anche con tutta buona volontà a destra ritornando indietro non si vede, ma soprattutto per esempio si vedono delle microemorragie che per quanto la TAC sia molto sensibile alle emorragie, le microemorragie a volte le vediamo bene paradossalmente meglio in risonanza e non riusciamo a vederle alla TAC in fasi molto molto precoce. Quindi prima abbiamo parlato dell'importanza dell'operatore nel somministrare l'esame, nel fare l'esame, ma è molto importante la lettura dell'esame, no? Assolutamente, infatti poi c'è la preparazione di un neuroradiologo pediatra e di un neuroradiologo in generale, deve essere proprio votata a riuscire a arrivare a questo tipo di livello diagnostico è molto complesso e l'interpretazione operatore dipendente, mentre queste immagini rimarranno per chiunque, cioè anche in un momento in un porto il CD a un altro neuroradiologo, l'immagine è sempre quella, ma cambia l'opinione. Quindi le immagini non sono operatori dipendenti se non nelle sequenze che uno può fare, non fare, ma bene o male. Grossolanamente quelle sono e rimangono negli anni. È l'interpretazione che ha esse, insomma, di cui si può... Ricordiamolo che il Gaslini, anche per questo, il centro stroke del Gaslini opera anche come centro di consulenza, spesso c'è anche una rete di medici sul territorio che vi invia gli esami già fatti anche solo per la lettura o per un secondo parere. La lettura internazionale è addirittura internazionale, riceviamo casi. Quindi, come vi dicevo, l'interpretazione della TAC è complessissima in età pediatrica, soprattutto perché vedete questa qui sotto è una TAC fatta per gli adulti, si vede tutto bene, vedete quella che invece si deve fare nel bambino che ha solo 9 mg, quindi è bassa in radiazione, l'altra è assolutamente da non usare nell'ambito pediatrico, è tutta una nebbia in balpadana, dico sempre io, cioè la differenza la si può vedere, è molto complesso, poi il cervello cambia dall'epoca neonatale, nelle varie fasi, quindi interpretare una TAC è molto molto complesso. Quindi, se noi, qua mi chiedevi come si interpreta per il discorso dello stroke, bisogna appunto vedere quell'interfaccia che vi dicevo grigia-bianca, il fatto che i solchi del cervello siano rigonfie oppure no, insomma ci sono delle cose. Se noi abbiamo la TAC, va fatta per carità la TAC in emergenza entro le 6 ore, ma se c'è la possibilità, e anche qui stiamo però parlando ancora di protocolli abbastanza, tra virgolette, di ricerca, c'è un tentativo che stanno facendo soprattutto gli ospedali pediatrici di fare questi protocolli di risonanza fast, è ovvio che se possiamo dobbiamo cercare di preferire anche la risonanza in queste fasi, proprio perché dobbiamo colpire solo quel piccolo numero di pazienti che in realtà ha veramente uno stroke e non un mini-care. Questo è il protocollo che dura pochissimo, massimo 6-15 minuti ed è diverso da quello che vi farò vedere tra un secondo invece che si fa poi molto più esteso, che può durare, come dicevamo, quasi un'ora e deve essere veramente solo indirizzato a dire i sintomi del bimbo erano veramente dovuti a uno stroke entro queste 6 ore? Sì! E allora proviamo a vedere se possiamo trattarlo in emergenza, bisogna vedere se ci sono tutti i criteri, ma se non si ha questa definizione talvolta è difficile potergli far accedere proprio al trattamento. Qual è il problema della risonanza? Richiede, come abbiamo detto, la sedazione, possono esserci dei device che non sono compatibili come i pacemaker, i bagni ragazzi... Ad esempio lo strumento per la simulazione vagale, VNS che utilizzano, può essere un'interferenza? Eh sì, assolutamente sì, possono esserci alcuni che sono compatibili, altri no, quindi va sempre portato. In questo caso cosa fate? Allora è importante che il genitore sappia che qualsiasi device abbia il figlio nel corpo, a parte l'appareccio ovviamente, deve portare la documentazione del produttore, perché noi abbiamo un sito dove ci informiamo su come modificare eventualmente le sequenze in modo da rispettare l'energia che diamo per non interferire con il funzionamento del prodotto, per non far sì che il prodotto non si riscaldi troppo e non lesioni il paziente e che non interferisca con le nostre immagini. Quindi non sempre è possibile fare risonanze quando ci sono dei device, ma abbiamo tre categorie. Safe, poi c'è una categoria intermedia, quindi sicuro, una categoria intermedia in cui bisogna verificare eventualmente, modificare le sequenze di risonanza alla macchina proprio e altre che proprio dice unsafe, per cui no, non può entrare in risonanza. Il problema dell'apparecchio è che nei bambini ormai è diffusissimo e questo è cosa che rende all'interno di un cervello, purtroppo non è un rischio per il paziente, può fare una risonanza, però non leggiamo niente, quindi vedete qua come distorce la diffusione che la sequenza principe per vedere lo stroke diventa praticamente incomprensibile. Puoi farlo lo stesso l'esame, però... Puoi fare, però diventa, cioè lo fai proprio, poi richiedi la rimozione quantomeno della parte metallica dell'apparecchio. Quindi talvolta, siccome vi dicevo che questi protocolli fast sono per lo stroke pediatrico, di solito dopo il secondo o terzo anno di vita almeno, di solito generalmente nei ragazzini di 8, 10, 12, 15, 16 anni che magari appunto ti sei riuscito a accorgere entro le sei ore, perché è anche difficile in altri setting quando sono piccoli accorgersi dello stroke e quant'altro, se vengono loro e se si riesce a fare un protocollo fast, però tante volte ti ritrovi magari l'apparecchio, quindi non è detto che riesci a vedere la lesione. Quindi insomma, ci sono sempre delle problematiche, come tutto ci sono i pro e i contro. È ovvio che fare un protocollo fast di risonanza, quando è possibile farlo per la disponibilità, vedete qua i cons, quindi le cose che ovviamente rendono difficile. Che ci sia spazio nella macchina e nel reparto. Che ci sia la possibilità di fare la sedazione, perché a volte devi farlo anche se fast, sei minuti, devi far venire l'anestesista e soprattutto questa è un'immagine molto di base che poi magari nell'arco di uno o due giorni deve essere rifatta per studiare invece bene le cause dello stroke. Qua ti dice solo c'è o non c'è uno stroke, è quella la risposta che devi dare in sei minuti e a volte potresti avere anche necessità di due sedazioni nell'arco di una settimana e ovviamente non potendo fare tutte le altre sequenze hai un po' meno di specificità nella diagnosi, insomma stroke riesci a dirlo se c'è o non c'è, ma magari non riesci a definirne la causa. È ovvio però che i pro sono moltissimi, cioè non irradio il paziente, puoi avere la diagnosi immediata, fare diagnosi differenziale e quindi dare una possibilità al trattamento in iperacuto per quelli che possono appunto poi esufruirne. Se invece cosa succede se siamo fuori da queste sei ore, quindi nella maggior parte 99% è mai dei casi, il protocollo è molto più vasto e può durare appunto anche quasi 45-50 minuti a seconda dei centri e abbiamo delle sequenze come vedete di diffusione che sono quelle principe per dire c'è o non c'è uno stroke in acuto, poi delle sequenze anatomiche, come vi dicevo delle sequenze che servono per capire se ci sono delle emorragie sia nel barenchima che all'interno dei vasi per le dissezioni che nei bambini per esempio sono e nei ragazzi più frequenti che non negli anziani e poi vanno visti bene i vasi sia all'interno del cranio che all'interno, che a partire dall'arco ortico, quindi questa è già una motivazione per cui possa servire, essere necessario fare il contrasto perché mentre questa immagine alla sinistra del vostro schermo non richiede il contrasto, questa a partire dall'arco ortico richiede il mezzo di contrasto, quindi qua abbiamo già una buona motivazione per cui lo stroke in acuto, quindi al di là delle 6 ore e nell'arco delle prima settimane, 10-15 giorni dall'insorgenza dei sintomi, va studiato in questa maniera, perché? Perché noi dobbiamo stimare il rischio, oltre a far diagnosi, stimare il rischio di ricorrenza e si sa oggi che le arteriopatie cerebrali, cioè le lesioni nelle arterie cerebrali aumentano di 5 volte il rischio purtroppo di ricorrenza. I basi come li studiamo, in risonanza, ma possiamo anche a volte avere necessità di fare degli approfondimenti, di solito in seconda battuta, con angiotac, con le somministrazioni di mezzo di contrasto e qui purtroppo dobbiamo accettare un po' il discorso dell'irradiazione, ma fino a volte, qui mi preme dirlo, anche all'angiografia, perché in alcune situazioni soprattutto di arteriopatie o vasculiti molto complesse, ancora è fondamentale arrivare a questa metodica, che quindi non è eliminata assolutamente. Ci si chiede piuttosto a volte se non possiamo bypassare l'angiotac e andare direttamente all'angiografia, però insomma poi lì si discute ovviamente, noi facciamo i meeting multidisciplinari caso per caso, ma questo è come si studiano i basi, in risonanza, in angiotac e in angiografia. Siamo andati, Savina, molto oltre il nostro tempo, anche il tempo che abbiamo rubato a te. Dici tu se vogliamo andare brevemente a quello che è il tema dei genitori, che cosa si può leggere dalla risonanza ai fini della terapia, di che cosa posso fare, cioè che cosa comporta a sapere a otto mesi, un anno o ancora due anni, magari quando si è completato il processo di maturazione del sistema nervoso centrale, che cosa posso sapere, che cosa può essermi utile per capire anche la prognosi. Tanto si parla appunto di risonanza magnetica funzionale, ma quanto è importante ad esempio rispetto al tema del linguaggio, agli apprendimenti, che cosa si può fare, come ci può aiutare. Allora, assolutamente, adesso rivedete il mio volto, allora ho interrotto la presentazione perché a me è lunga, magari possiamo un'altra volta riprofondire altri aspetti. Allora, sicuramente le immagini vanno valutate anche con un tentativo di stima della prognosi. Nell'ambito pediatrico, nel neuroimaging, bisogna fare estrema attenzione a dare prognosi sull'imaging perché il cervello di bambino è estremamente plastico e soprattutto più precoce è l'insulto, soprattutto in epoca del Natale, più paradossalmente a fronte di lesioni anche, perdonate il termine, molto brutta ed estesa la risonanza, l'outcome può essere meravigliosamente meno severo. Quindi l'importante è non dare sentenze perché in ambito pediatrico non si deve fare se non in casi proprio estremamente eccezionali. Si può andare a vedere alcune sedi importanti del cervello, quelle che sono deputate al movimento per cui si può dire che, per esempio, uno stroke che coinvolge le regioni dove passano i fasci cortico-spinali che sono i fili che sostanzialmente poi ci fanno muovere sostanzialmente determinano proprio il nostro movimento, quindi la parte del cervello deputata al movimento in tutta la sua estensione, il suo percorso fino al midollo spinale, allora lì possiamo dire che verosimilmente ci aspettiamo un deficit, ma come vi dicevo, da dire che ci aspettiamo un deficit motorio, a dire quanto grave sarà, bisogna essere molto attenti. Quindi in quella fase lì io non riesco a dire, magari riesco a dire è un deficit controlaterale rispetto alla estensione, però non riesco a dire magari è un'emiplegia o una diplegia. Potrebbe essere un'emiplegia o una diplegia, ma la severità e il potenziale di miglioramento non lo possiamo predire ad oggi perché c'è anche di mezzo tutta la riabilitazione. Quando si riesce a fare la riabilitazione, se nella finestra del primo anno, che per esempio è quella un po' primi anni, insomma molto ovviamente più efficace, quindi insomma ci sono tanti l'età del bambino, tanti fattori, quindi io vorrei stressare il concetto che la prognosi in questi casi è una prognosi che si deve dare eventualmente a 360 grandi e con la consapevolezza che tantissimi fattori, non ultimi ruoli dei genitori, la stimolazione, la fisioterapia, possono giocare l'ambiente sulla capacità di recupero. Quindi io posso stimare, mettiamo il punto di partenza, questo sì, io posso dire ok mi aspetto che questo tipo di imaging corrisponda a un'emiplegia, ma quanto di questa emiplegia nel tempo con il lavoro e con la riabilitazione riusciamo a recuperare, quello ad oggi secondo me… Questo dal punto di vista motorio, invece il linguaggio e apprendimenti e cognitivo in generale? Il cognitivo è ancora più complesso perché praticamente è più facile il motorio, il cognitivo e il linguaggio… ok ci sono anche qui delle aree che noi sappiamo nell'emisfero sinistra nella maggior parte dei destrimani, ovviamente non bisogna generalizzare perché alcuni pazienti mancini hanno esattamente tutto localizzato alla rovescia, ma diciamo nel 99,5% della popolazione circa abbiamo il linguaggio localizzato a sinistra, ci sono due aree che sono una frontale anteriore che è di brocca, che è il linguaggio espressivo e un'altra che è nella regione temporale, che è quella di verni, che è del linguaggio ricettivo, per cui se abbiamo delle lesioni lì possiamo di nuovo supporre che possono esserci delle difficoltà, ma… e qui entra in gioco lo studio funzionale di risonanza… non è detto perché il cervello soprattutto nelle lesioni molto precoci può riorganizzarsi e talvolta anche in quell'emisfero controlaterale che normalmente del linguaggio invece non se ne sarebbe fregato nulla, quindi noi ancora non conosciamo tantissimo del cervello, quindi in parte c'è un enorme… anzi in gran parte abbiamo un'enorme ignoranza che cerchiamo un po' di colmare con gli studi funzionali, cosa vuol dire? Che noi in età però deve essere collaborante della collaborazione, possiamo cercare di capire… Quindi dai sei anni diciamo? Si cercare di capire con degli studi in cui si chiede al paziente di fare dei task o motori all'interno della risonanza, oppure di generazione di verbi, a partire per esempio da un'immagine vedo la palla, gli dice il bambino pensa all'azione che si può fare con la palla, oppure di denominazione vedo il cactus o una lettera e devi pensare a tutte le parole che iniziano per quella lettera. Io in quel momento che cosa vedo dall'esame? Vedo attivarsi delle aree cerebrali che possono essere o intorno alla lesione, a fianco della lesione, oppure non comparire perché sono in corrispondenza della lesione, ma magari si sono riorganizzate da un altro lato. Allora c'è da dire questo, è una premessa, gli studi funzionali, questi che hanno un task, quindi un compito, sono molto difficili da far fare ai bambini, anche perché noi non possiamo controllarli. Ci sono a volte dei task che si fanno con dei pad per cui tu vedi che si schiaccia, però già sono più complessi, sono per delle cose cognitiva un po' più avanzate. Queste del linguaggio non possono parlare, tu non li puoi ascoltare se lo devono immaginare, quindi è qualcosa che tu un po' vedi solo alla fine, se si attiva un'area che ti sembra che sia compatibile con il linguaggio, capisci se il bambino è risultato a farlo. Quindi più credibili forse in un'età verso il giovane adulto? Esatto, e diciamo che altrimenti c'è un'altra possibilità che si chiama resting state fMRI, cioè in cui io vedo come si attiva il cervello a riposo, cioè non chiedo al bambino di far nulla, ma di chiudere gli occhi e di non pensare a niente, che vuol dire pensare a tutto, perché sappiamo bene che quando chiudiamo gli occhi non possiamo spegnere il cervello, ma proprio per questo il cervello ha delle reti che si attivano a riposo quando non si pensa niente e possiamo andare a valutare queste reti in maniera indiretta, però c'è un nuovo però, questo vale molto per la ricerca, ad oggi l'applicazione quindi su gruppi di pazienti, io metto insieme tutti questi studi funzionali e li paragono con quelli di bambini che non hanno un po' tempo e cerco di capire le differenze, sul singolo individuo è molto più difficile applicarli, si può fare, lo facciamo in alcune selezionate occasioni, ma non vorrei che passasse il messaggio che magari noi possiamo uscire questa come ancora oggi, ahimè, dico che è un limite, non dico che ne sono felice, come una tecnica per cui mi può predire sul singolo alcune cose o darmi delle risposte sul singolo individuo, c'è molta ricerca. Però ecco, dal punto di vista della ricerca mi sembra estremamente interessante, io sapere se un cervello si è riorganizzato e quindi ragiona in maniera completamente diversa, mi sembra... Addirittura perché si possono fare degli studi di connettobica che sono ancora più complessi, in cui proprio il cervello viene rappresentato un po' come un sistema, non so, delle mappe aree portuali del mondo, in cui tu hai degli hub, delle città come Londra da cui partono tanti aerei e delle città più piccole come Genova dove ne arrivano meno. Il cervello organizzato in maniera simile dà la priorità ad alcune aree che devono poi fare da interconnessione con altre più piccoline, alcune lesioni quando vanno a interrompere questi network, come i social network, queste reti, possono causare dei danni oppure no e il cervello può però di conseguenza riorganizzarsi in reti complementari, alternative. Quindi c'è un enorme studio di gruppo collettivo quindi su numeri, cioè di mettere insieme, ripeto, un tot di pazienti. L'unica eccezione a questa cosa, perché magari il genitore che è ancora più esperto e vuole andare a vedere la letteratura troverà è nell'ambito dell'adulto. C'è un professore che ha lavorato tanti anni, se non sbaglio, ad Atlanta, ma non vorrei sbagliare, che adesso è in Italia, a Padova, che è Corbetta, ma sull'adulto ha fatto moltissimi studi sul resting state in fase acuta per cercare di dare una predizione. Quindi non voglio limitare il fatto che magari fra 5-10 anni neanche in ambito pediatrico si possa riuscire ad applicare queste stesse tecniche sia sul singolo che soprattutto in acuto. Perché diciamoci la verità, quando io questo studio lo faccio di un bambino che magari ha recuperato del suo stroke, sono passati 3 anni, viene e mi fa lo studio, in realtà me lo dice già la clinica come cosa è successo, no? Che fine, dove siamo arrivati? Sì, però la parte interessante è forse capire come alcune parti hanno vicariato un'altra... Esatto, quello per capire sempre, però per il genitore che invece vuole sapere come sarà, tu dovresti riuscire a fare questo studio in fase acuta e gli dire da quello, ok, come prevedo che quindi possa impattare su come funziona il cervello e quindi come andrà a migliorare per esempio tutta la riabilitazione, dove focalizzarla. Questo siamo ancora molto molto lontani, quindi ad oggi noi stiamo facendo gli studi sui bambini che già un pochino anche perché devono essere fuori dalla fase acuta, devono essere grandi abbastanza, penso a uno stroke neonatale, sebbene da 0 a 6 anni c'è stato un mondo in mezzo, capito? Quindi tu a 6 anni vedi già il risultato di 6 anni di vita, lavoro e sperimenti. Noi abbiamo un pannello di migliaia di bambini in tutta Italia, quindi ve li offriamo a beneficio dell'indagine della scienza. Questo infatti è uno dei progetti che vorremmo portare avanti sicuramente, che gli studi di connettoma sono molto complessi da eseguire perché ad oggi questi studi per esempio sono facili da fare quando il cervello sembra normale, cioè non ha grosse lesioni. Invece come abbiamo appena detto negli stroke neonatali, talvolta la lesione paradossalmente è molto molto ampia e quindi poi ci sono delle problematiche tecniche che non sono fatte, di analisi esatto, per fare proprio riuscire poi a ricostruire queste reti. Insomma ci sono dei presupposti tecnici che... Insomma è molto difficile fare ricerca avanzata su quest'ambito, quindi stiamo ancora... Però appunto abbiamo visto dagli anni 80 ad oggi quanto è stato esponenziale, quindi siamo assolutamente fiduciosi. Sabina, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto immergere in un mondo che è un po' fantascienza, un po', ma in realtà è proprio la vita di tutti i giorni, no? La vita e il supporto che voi date che è estremamente rilevante a un'equip che ovviamente lavora in gruppo con diversi specialisti, ma che appunto senza la vostra lettura sapiente degli esami farebbe molta più fatica. Io ti chiedo solo l'ultimo minuto perché voglio fare una piccola finale, diciamo, considerazione, quindi saltiamo tutta questa parte noiosissima, poi ripeto, eventualmente su alcune cose possiamo ridiscuterle, per esempio la parte dell'imaging della genetica dello stroke, che è tutto un capitolo molto interessante e di cui ci occupiamo, ma è il preoperatorio per i moi a moi, la chirurgia dell'epilessia che facciamo anche nel nostro istituto, quindi insomma ci sono, se vuoi, possiamo fare una volta dedicata solo a delle tematiche più specifiche, è solo l'ultimo messaggio, è questo, cioè noi, io ci tengo tantissimo, il neuroradiologo fa parte di una squadra, una squadra che si compone non solo il singolo neuroradiologo che è referta da solo, ma con i suoi colleghi, quindi di un gruppo nel reparto in cui si discutono le immagini anche proprio con anche gli ingegneri e i propri colleghi, ma soprattutto con il maggior numero di squadre possibile insieme, quindi all'interno dell'ospedale, di chi si occupa di reumatologia, fisiatria, malattie rare, genetica, chiunque, non voglio dimenticarne nessuno, ma un ringraziamento e secondo me da noi proprio il primo motore per questa iniziativa che abbiamo portato avanti con Marta da sette anni, fianco a fianco, è la dottoressa Bertamino che ha creduto fortemente nel dedicare proprio uno studio, una squadra e creare queste squadra ad hoc per lo studio dello stroke in ambito neonatale pediatrico, ma non ultimo le famiglie, perché come mi piace c'è un sacco queste immagini, intorno ai bambini in realtà c'è un mondo che va dai un villaggio, ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Esattamente, credo che la squadra si deve allargare a tutti, in primis genitori, familiari e associazioni. Hai citato Savina, Marta Bertamino che ovviamente tutte le nostre famiglie conoscono molto bene, che conoscono così bene che nel lavorare a questo progetto che è lo sviluppo di un chatbot, un agente conversazionale, quindi fra la famiglia e il centro stroke abbiamo deciso di chiamarlo proprio dottoressa Marta, perché è talmente iconico nel messaggio. Te lo merito perché ha creduto tanto in questo progetto, mi ha coinvolto e io veramente sono contenta perché ha piccoli passi, piccoli passi che insomma puremmo a volte essere più spediti, ma facciamo il possibile anche per le condizioni del paese in cui viviamo, insomma cerchiamo di renderlo piano piano una realtà positiva per le famiglie. Però è stato anche un piccolo grande passo, nel senso che abbiamo creato un replicato, un modello internazionale, dove però rimane ancora un modello unico e che collabora poi con tanti centri anche in Italia, quindi sicuramente applausi per questo. Fabina, noi ti ringraziamo ancora, tu hai lasciato anche la tua mail di contatto e poi pubblicheremo subitissimo questo intervento, però se ci sarà necessità ti coinvolgeremo ancora, perché poi ci intriga molto questa parte della ricerca. Di lungo sempre un po' troppo, quindi poi... Ti abbiamo scelto per quello, perché sei chiara ed esplicita. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao, grazie.